Ciao a tutti ragazze e ragazze e bentornati sul canale. Oggi il video spacchettamento Avon di Campagna numero 6. Con me come potete vedere c'è Marika che mi darà una mano appunto prendere tutti i vari prodotti così io eviterò ogni tanto di perdermi giù e quindi di scomparire dalla visuale. Allora passo subito col farvi vedere praticamente il materiale cartaceo, cerco di andare di fretta perché i prodotti sono diciamo un bel po' e quindi vi faccio vedere subito i cataloghi e tutto ciò che hanno mandato per quanto riguarda il cartaceo. Allora hanno mandato uno di questi cataloghi qui che è il catalogo di Campagna nuve e vi posso assicurare ragazze che questo catalogo è fantastico cioè io che faccio la presentatrice praticamente vedendo un catalogo del genere sono invogliata e i colori qui dei nuovi rossetti che ci sarà il lancio dei nuovi rossetti in stilo praticamente sono tutti ologrammati. Ho dato un'occhiata così in modo molto molto generale vi posso dire che ci sono offerte davvero vantaggiosissime quindi se avete nella vostra zona una presentatrice Avon a portata di mano vi consiglio di non perdervi l'opportunità. Allora io cerco di entrare meglio nella visuale ok mi sono alzata un attimino con la sedia. Allora poi ho ordinato gli altri cataloghi ho ordinato dieci cataloghi di campagna numero 8 quindi è la prossima campagna ed è quella con il lancio delle tre fragranze praticamente della Shint Essence che già ci sono solo che sono altre tre fragranze quindi altre tre novità e saranno a partire appunto in offerta da 6,95 euro quindi questa è anche una bella offerta da cogliere al bulo. Poi mi hanno mandato praticamente gli opuscoli quelli integrativi delle offerte ho dato così una visuale più o meno a sommi capi e sono tutti quei prodotti appunto che escono in di serie quindi sono quelli tutti in saldo infatti dicono dice che ci sono degli sconti addirittura fino all'80%. Poi vabbè mi hanno mandato l'Avon quello delle offerte esclusive di campagna 9 questo qui che ho guardato proprio così ho dato uno sguardo fulminio e poi mi hanno mandato l'Avon tutto per te di campagna appunto 7 che è la campagna nella quale io sto lavorando con diciamo le anteprime di campagna 9 e vi posso assicurare che ci sono davvero delle cose molto molto carine che sicuramente prenderò e che poi vi mostrerò appunto nel prossimo video. Poi vabbè come di consueto c'è la classica fattura, vedete ci sono diversi prodotti che ho ordinato e poi ci sono i volantini quelli inerenti alle incentivazioni per noi presentatrice. Infatti in questa campagna, se in campagna 7 che è la campagna appunto come dicevo prima che stiamo lavorando, si ordina almeno uno dei nuovi colori degli smalti gel shine, poi in campagna 8 facendo un ordine minimo di 65 euro, altrettanto in questa campagna, con un contributo di 49 centesimi si può ottenere, si può ricevere praticamente il profumo pur blanca e quindi diciamo che è un'ottima opportunità e non me le faccio mai scappare. E poi c'è un pacco in anteprima di 8 prodotti e soli 25 euro che sinceramente sono molto tentata e molto invogliata di prenderlo, ve lo mostro. Praticamente c'è la crema quella per i capelli, c'è lo shampoo, poi c'è BB cream, una BB cream o due BB cream, vediamo, tre, quattro, quindi sono due BB cream sia nella tonalità light che nella tonalità medium, poi c'è un'acqua micellare, c'è la crema quella Nutar Effect, quella Idratation, quella idratante e poi ci sono praticamente della Planet Spa, c'è la mousse doccia con estratto di seme di moringa e dell'Himalaya, è appunto che è questa qui, la mousse corpo e poi c'è una crema per i piedi, una nozione idratante per i piedi che è molto buona perché già avendo la presa in anteprima nella scorsa campagna è davvero molto molto buona. Comunque tutto questo set è 25 euro e sinceramente ci sto facendo un pensierino perché lo voglio prendere anche perché avendo diversi prodotti anche a doppio sicuramente li andrò a mettere in un prossimo giveaway e appunto sto aspettando per, dovevo già aprirlo però sto aspettando un altro pochino per poter raccimolare qualche altra cosa e quindi decidere se fare un giveaway per quanto riguarda i prodotti di makeup oppure i prodotti beauty, non so, devo guardare e devo decidere un attimino in base alla disponibilità delle cose che ho da parte. Allora poi adesso passo velocemente nel farvi vedere i prodotti che ho ordinato io, quindi tutti i prodotti in anteprima e magari qualcosa di personale. Allora c'era lo scorso, forse ve l'avevo mostrato nel foglietto di incentivazione della scorsa campagna. Comunque se non vado errato c'era, anzi adesso ve lo dico proprio in modo corretto, la possibilità di acquistare questo set dei prodotti Avonlac, praticamente allora 4,95€, si Avonlac, a solo 4,95€ c'era questo set in offerta per noi dimostratrici. Allora le de toilette a vaporizzatore che è questo qui, poi la crema profumata per il corpo che ancora non ho sentito la fragranza, quindi adesso la sentirò direttamente con voi. Molto buona. Anche questo. E poi anche il deodorante spray, quindi comunque un kit di prodotti, di signori prodotti è solo i 4,95€ e infatti non ne sono fatta scappare. Poi mi hanno inviato il prodotto, quello che era come l'incentivazione che vi ho mostrato prima, quello che con 49 centesimi poi nella campagna successiva e comunque riguardo il Far Away, infatti avendo dato solo 49 centesimi di differenza, avendo fatto il fatturato della campagna precedente eccetera eccetera, mi sono aggiudicata appunto il profumo Far Away nella confezione da 30ml, nel formato 30ml in limited edition. Ve lo mostro così vi faccio vedere. Eccolo qui. Sarà senz'altro felicissima Miriana perché Miriana lo adora questo. Infatti adesso siccome è finito anche Marika, infatti siccome era finito già l'altro Far Away, stanno usando il Far Away Infinity, quello verde. Allora poi come prodotti... Allora poi ho acquistato quest'acqua micellare che era praticamente in offerta sul catalogo, acquistando un prodotto della NutraEffect si poteva avere, ricevere con solo un euro in più l'acqua micellare. Siccome una cliente non l'ha voluta, sinceramente ho aggiunto io l'euro e l'ho presa per me. Perché anche se ce l'ho comunque una volta terminate, diciamo che gli struccati di acqua micellare non sono mai abbastanza. Vengono di uso comune e comunque continuo come prodotto. Poi come prodotto in anteprima ho acquistato questo fondotinta Nude Matte Fluid Makeup. Quindi è un fondotinta a definitura matta e nella tonalità Beauty Quartz. Quindi non so ancora, infatti lo sto aprendo con voi in questo momento perché non so se la tonalità è giusta per la mia pelle. Perché sapete, dalla carta sembra tutto diverso. Siccome era un anteprima, ancora non c'era sul colorario. Allora, è questa confezione qui da 30 ml, con scadenza 24 mesi, quindi ve lo posso anche aprire per vederlo e vediamo. Allora, è molto chiaro, molto, molto, molto chiaro. Diciamo che è chiaro per me, anche se adesso sto tendendo un attimino a colorarmi perché sto cominciando ad abbronzarmi in macchina. Beh, no, effettivamente qui sul polso non sembra così chiaro, però sarà sicuramente un prodotto da utilizzare il prossimo inverno. Anche perché io già in inverno di fondotinta ne uso pochissimi, quindi figuriamoci in estate. Comunque sì, il colore effettivamente è quello giusto, è quello giusto. Allora, poi, 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 in anteprima ho preso questi due deodoranti della linea On Duty, quelli 48 ore, e praticamente quello protezione minerale e questo è quello Men Minerals. E niente, appunto, sono i deodoranti quelli classici dell'Avon, quelli roll-on, quelli che durano veramente tanto. Vabbè, 48 ore, io ho più di dieci minuti. Sto sempre a lavarmi, quindi magari uscire, rientrare e mettersi di odorante, però hanno una lunga tenuta. E infatti 48 ore di protezione di odorante. E ho preso sia la fragranza maschile che la fragranza femminile, che adesso apro con voi. Sono chiusa, mamma. Apriamo e prendo. Questa è quella maschile. Buonissima, faccio sentire a chiamare. Buona. È di quella maschile ed è molto bella. Sentiamo, diciamo, quella neutra, quella femminile. Ah, fantastica. Bellissima. Sta di crema per il corpo idratante. Quindi, comunque, buoni. Questi erano in anteprima. Poi, come altri prodotti in anteprima, ho preso, oltre a fondotinta, ho preso anche la nuova palettina. Vedete che bello il pack. Questo pack è davvero bellissimo. E la palettina Avon True Color. E dice El Shand of Quad Ombres a Pupiers. Vabbè, lasciamo sare. È 5 grammi. Sul retro, praticamente, c'è il disegnino dell'occhio, quindi con i vari numeretti, dove praticamente spiega e consiglia come applicare in modo corretto l'ombretto. Vi mostro la palettina al suo interno. Sarà molto bella. La palettina è quella classica, quella nera, elegantissima, di Avon, con la scritta Avon. E vi mostro il colore. Allora, il colore è questo. Mi sono mantenuta sui toni, comunque, del marrone, del beige, quindi toni nude, toni caldi. Sono i toni... Infatti, come potete notare, ci sono i numeretti. Su ogni ombretto c'è il numeretto, appunto, che poi aiuta, come quello che c'era sulla confezione, a spiegare come applicarlo. Allora, questa tonalità di colore è praticamente lo smoky brown, quindi è appunto per realizzare lo smoky sui toni del marrone. Allora, altro prodotto in anteprima sono queste perle di terra solare. Che cosa hanno come novità? Perché le perle già ce le abbiamo, sono il colore, quindi un nuovo colore. Io tutto ciò che sto facendo vedervi lo sto vedendo insieme a voi in questo momento, perché credetemi, è arrivato il pacco qualche ora fa, non ho avuto proprio tempo di... ho avuto solo il tempo di aprile, guardare un attimo, però non di osservare man mano tutti i vari prodotti. Ecco, queste sono le perle. Come potete vedere, ci sono 3-4 tonalità all'interno. E sono quindi appunto uno dei nuovi colori che andranno in lancio appunto con 3 tipi di tonalità diverse rispetto a quelle già che c'erano. E questo è Bram Coral, nella tonalità Brom Coral. Brom proprio l'ho detto... ho detto benissimo. Poi ho preso un Mega Effect Creamy e Shandove, waterproof, quindi ho preso praticamente un ombretto in crema a lunga tenuta, perché è waterproof, quindi resistente all'acqua. E ho preso, vedete, il pack sempre con il contenitore in vetro e il colore è questo bellissimo beige dorato. Infatti il colore dice liquid gold, quindi oro liquido. Vediamo, perché con le unghie non riesco a prenderlo perfettamente. Allora Marika, sì, col tuo ditino, prendi, mettilo qui. Non l'ha messo proprio. Allora, vediamo un attimino. Ecco qui. Bellissimo. È bellissimo. Diciamo che è poco percettibile, però è molto delicato perché può essere utilizzato appunto sia come base... voglio farvelo vedere meglio, ecco. Sia come base appunto per la palpebra mobile, per la palpebra mobile, dicevo bene, ma anche secondo me è ottimo come illuminante. Quindi sono davvero contenta di aver scelto questo colore. Un altro prodotto in anteprima è anche questo Light Medium. Praticamente è un correttore matte. Anche questo appartiene alla nuova linea come il fondotinta che vi ho mostrato prima. Ed è in questo colore Light Medium. Il pack è questo, davvero bello. È cambiato rispetto agli altri. Molto, molto bello. Mi piace davvero. Molto elegante lo trovo. Sembra uno set. Vabbè, quelli con l'applicatore e con il pennellino già ci sono. Però è proprio come pack con questo trasparente argentato e con le varie scritte. Comunque effettivamente è mattificante. Molto, molto setoso. E questo non dovrebbe entrare nelle pieghette. Comunque veramente bello. Allora, poi, 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 poi. Un altro prodotto in anteprima è questo mascara. Praticamente della Mega Effect Mascara. Quindi è il mascara quello con l'applicatore e quel mascara particolare. Vabbè, all'interno c'è tutta la spiegazione, le soluzioni. Che è praticamente questo qui. Vedete? È il mascara quello... Io questo già a tempo fa l'avevo acquistato. Siccome mi ero trovata abbastanza bene, l'ho riordinato. Sempre se riuscirò mai ad aprirlo. Perché non ricordo più come si apre. Ecco qui. L'ho aperto. Praticamente è il cappuccino, il cappuccio, il tappo per coprire questa parte qui. E questa è la parte del mascara. E questo è lo scovolino. Ecco qui. Io mi sono trovata benissimo con questo mascara, sincera. Con questo, sì, mascara. E anche con questo genere di applicatore. Sinceramente mi sono trovata molto molto bene. Perché ha questa funzione di tirare fuori in questo modo che non fa uscire troppo prodotto, né troppo poco, né in modo eccessivo il prodotto del mascara. Quindi davvero ottimo. Praticamente con cheratina dice... A differenza degli altri devo ancora riuscire a capire qual è il colore black. Praticamente se non vado, se non ho capito male. La novità è che contiene cheratina. E poi anche perché dà ancora più effetto volume. Mega effetto. Allora, poi come altro prodotto, però questo non è un prodotto di anteprima, è un prodotto già in linea. Però siccome non ce l'avevo e lo volevo acquistare, è l'ombretto questo, il stick che andrà ad aggiungersi praticamente alla mia. Questi non sono quelli che non sono retraibili, mi sa? No? Quindi non lo esco. Comunque è in questo color rosa pastella, pastello, proprio molto molto chiaro. Infatti è pack nectar. Quindi è uno rosa pesca, comunque è un rosa molto chiaro. Siccome io non uso molto né gli ombretti in crema né quelli in stick, quindi sono curiosa appunto di provarli, anche perché adesso andando incontro alla stagione calda, voglio appunto vedere la resistenza di questi prodotti. Allora ragazze, per quanto riguarda i prodotti miei personali e per quanto riguarda il cartaceo, ve l'ho mostrato. Adesso andrò velocissimamente nel mostrarvi gli ordini che mi hanno fatto le clienti, perché è tanta roba e non voglio far durare il video 5 ore. Vi mostrerò giusto le cose più particolari e magari non tutti i prodotti di routine che si vedono sempre. Allora, una cliente mi ha ordinato questo set di reggiseni, che è praticamente una 50 come taglia, no scherzo, allora è una taglia e una sesta coppa di, quindi è davvero molto abbondante ed è praticamente c'è questa fantasia qui come reggiseno e poi c'è una fantasia tutta sul celeste, ma siccome la busta è sigillata e non posso aprirla, perché è proprio... Ah no 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 no, vediamo, 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 cerchiamo di sbirciarla piano piano, non si dovrebbe però, ve la faccio vedere. Ecco, praticamente l'altro è in questo celeste qui azzurro, quasi, ecco, tutto striato. Sono davvero molto molto carini, cerco di far quanto più o meno danni possibili. Allora, mentre sempre la stessa cliente mi ha ordinato anche questa sottoveste in pizzo, ed è questa è sempre una taglia 54, tu 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 tu, 54-56 e questo praticamente è un body, è un body in pizzo, però questo ragazze non lo posso aprire, perché, anche se... Non si può dire da... Sì, però questo si vede se si apre, quindi non voglio far rovinare la confezione. Comunque, guardate, è in questo pizzo che ha questa particolarità di avere la parte color carne, quindi la parte nuda sotto, quindi fa questo effetto nudo con il pizzo sopra. Allora, che dirvi, ci sono una marea di prodotti, li ho messi, li ho divisi in questi sacchetti già, perché siccome ci sono le ragazze che collaborano con me, e quindi voglio... Ho già diviso i prodotti che andranno a loro. Allora, vi faccio vedere subito questa maschera per i capelli all'olio di Argan del Marocco, profumo fantastico, e questa serve appunto per nutrire i capelli e per dare lucentezza, ma appunto per nutrirli proprio in un modo vero e proprio. Poi mi hanno ordinato l'abbronzante, quindi Maxitan, San Maxitan, che è l'olio spray a bronzatura prolungata. Quindi questo olio spray. Mi hanno ordinato una crema balsamo per i piedi, una crema per i calli e poi centinaia e centinaia di prodotti per il make-up, che vi mostro giusto in modo velocissimo. Molte matite per il contorno occhi. Questo è un eyeliner colorato che vi mostro. Questo ve lo mostro perché comunque è una cosa che non avevano già ordinato, che è questo qui. Guardate, in questo colore qui. Questo è una penna, praticamente è un eyeliner in penna. Sì, è un eyeliner in penna. Molto cremoso comunque. Poi mi hanno ordinato anche un rossetto della, sempre color Trend Berry Movies. Ed è in questo color fucsia. Non so se si riesce a intravedere, se mette a fuoco. Comunque è questo color fucsia. Vi dicevo tante matite per il contorno occhi. Poi mi hanno ordinato tantissimi, tantissime cici cream. Quindi cream corrector color. Quindi la crema, correttore e fondotinta, perché erano in offerta. Quindi molte, molte hanno approfittato di questa opportunità. Anche questo gel doccia ha la rosa e pesca. Ma io sono curiosa e lo voglio sentire. Bellissimo. È vero. Molto femminile perché rosa e pesca. Comunque molto femminile ma molto, molto buono. Poi mi hanno ordinato praticamente, vi mostro questi ombretti in crema, sempre della color Trend. Ne apro uno giusto per farvi vedere, anche se sono di diverse tonalità. Ho beccato forse la tonalità più bella, che è in questo color malva praticamente. Vedete? Belli. Questi mi sa che anch'io andrò a prendere. Infatti è nel color Tokyo. Dice color Tokyo. E quindi è un rosa antico, più che malva. Mi sa di un rosa antico. Poi mi hanno ordinato un pennello angolato, degli eyeliner liquidi. Vediamo, vi faccio vedere questo. Soft bronze. Voglio capire qual è. Ecco qui. Bellissimo questo pure, in questo color bronzo. Molto, molto bello. Questo mi sa che lo devo prendere perché io tanto tempo qua ne avevo uno simile e l'estate con la bronzatura era qualcosa di meraviglioso. Poi mi hanno ordinato i fondotinta, quelli 3 in 1, che questi ormai li vendo in tutte le campagne dell'Avola. Non c'è mai una campagna che può saltare. Mi hanno ordinato anche moltissimi rossetti. Molti. Molti rossetti. Dei gloss. Mascara Super Shock. Poi il magenta flash che è il Ultra Color Blonde Lipstick. Vediamo un po' come novità che cosa vi posso far vedere che mi hanno ordinato. Giusto per farvi vedere qualcosa che è di diverso. Nulla. Mi hanno ordinato i primer. Diciamo che in questo sacchetto la maggior parte sono tutti appunto prodotti di makeup. Quindi rossetti, matiche, eccetera, eccetera. Adesso vi mostro oltre poi ai prodotti quelli per quanto riguarda la lingerie. Allora, poi mi hanno ordinato c'era un set per quanto riguarda i profumi Pur Blanca. C'era il set di profumi a 24 se non mi sbaglio. Non voglio dirvi una bugia. Allora, il set di profumi veniva, ve lo dico subito, a 24, 24 euro. Quindi avevo detto bene. Quindi tre profumi della Pur Blanca a 24 euro. E sinceramente le clienti ne hanno approfittato. Poi, sempre, sempre, per quanto riguarda i fondotinta, quelli compatti 3 in 1 che vi mostro in ogni campagna. Poi mi hanno ordinato una limetta, solo che questa non la possa aprire, ed è una di quelle limette in vetro. Però, praticamente, se non vado errato. Ve lo dico subito perché voglio avere la certezza in quello che vi dico che non vi prendo in giro, non mi piace dire falsità. Allora, ve lo dico subito se riesco a trovare. Allora, limetta per unghie, però non mi dice se è di vetro o meno. Comunque è questa. Con, diciamo, la parte superiore in questo coloro. è un rosso, è un rosso fragola. Ecco. Questa. Poi una pinzettina per le sopracciglia. Quando mostro quelle pinzette perché sono davvero buone. Il mascara, quello, l'ultimo uscito, quello big e multiplayed. Poi una BB cream. Ecco, per esempio, questa era la signora che aveva ordinato, ah, non aveva ordinato la crema, aveva ordinato una BB cream e non ha voluto soffrire dell'acqua micellare, quella che poi alla fine ho preso io. Piano mi hanno regalato poi un fondotinta, quello matificante della Color Trend. E' un fondotinta delle New. Questo ve lo faccio vedere perché me li ordinano non sempre, perché avendo un certo costo non tutte le clienti sono disposte a spendere. Aspetta, Marika, che non ci stai. Faccio vedere il pack che bello che è, guardate. Nella bottiglietta di vetro, bellissimo. Ha la dotazione appunto la pipettina, qui la pompettina. Ed è davvero molto elegante, anche perché i prodotti Enu, oltre a essere prodotti di make-up, sono prodotti curativi, quindi veri e propri trattamenti viso. Infatti è un fondotinta anti-age, vellutante. Allora, vi dico, è un fondotinta trattante anti-altità con fattori di protezione F15. Comunque, è uno spettacolo, è davvero ottimo. Allora, anche questo sacchetto l'abbiamo, diciamo, visto in modo molto molto veloce, passo a farvi vedere gli ultimi prodotti che sono contenuti in questa parte di scatolo. E come vi dicevo, ci ritroviamo altre acque micellari, perché molte persone mi hanno ordinato le BB cream, BB cream in affinato, e anche la crema Nutra Effect, quella idratazione, quella idratante. Poi mi hanno ordinato un set di pennellini, quegli applicatori in spugnetta, questi qui, un pennello a ventaglio, un pennello angolato, e il pennello a ventaglio, questo qui, questi sono per la Nail Art. Diciamo che questo angolato è ottimo anche per stendere l'eyeliner, quindi va benissimo. Poi mi hanno ordinato due mascara Big Fails Lashes, poi due smalti, quella è quell'effetto gel, vi faccio vedere velocemente il colore. Allora, questa è nella tonalità Perfect Pink, che è questo praticamente fucsia. Bellissima rosa. Questo ce l'ho anch'io, infatti le clienti lo stanno adorando quando lo porto per applicarlo, lo stanno adorando, perché è proprio un colore molto estivo, manca farla apposta anche la mia maglia dello stesso colore. Ah, non vi ho fatto vedere le mie unghiette nuove, non so se le avete intraviste in qualche altro video, comunque, questa è la colata, perché ormai le unghie sono le mie, la lunghezza è la mia, sono diventata una strega. E in questo color rosa corallo, poi con, diciamo, l'anulare, quello con il glitter. Niente, era giusto una chicca, un momento di vanità personale. E poi c'è questo color rosa, chiarissimo, molto molto chiaro, che è praticamente sheer love. Allora, poi mi hanno ordinato il duo illuminante, blush e illuminante, quello che vi feci vedere un po' di video fa, che ordinai anch'io, che da una parte è illuminante e da una parte fa blush. Vediamo, questa è la parte dell'illuminante e questa è la parte del blush. Ok. Poi, 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 poi mi hanno ordinato due deodoranti profumati, uno soft mask e l'altro blu blanca. Rossetti a go-go, anche da questa parte dell'ordine, ultra color indulgence, poi questo sempre indulgence e poi c'è anche uno matte. Questo è quello matte nel color merveglioso mocha, che è un colore marroncino. Non so se riesce a vedere. Ragazzi, scusate, c'è stato un piccolo blackout alla macchina fotografica. Comunque, vi stavo parlando dei deodoranti, quindi mi hanno ordinato questi deodoranti della Fire Away, perché erano in offerta 2 a 3,90 se non vado errato, quindi la cliente ne ha ordinato due set, essendo quelli che... due set da due, e quindi essendo quelli la sua profumazione più gradita. Poi mi hanno ordinato un Avon Mesmerase Black, quindi un profumo da uomo. Un Nile Expert, che è il 5 in 1, è quello trattante, praticamente è lo smalto trasparente, che è un diurente, antisfaldature, nutriente, quindi è un tocca sana per le unghie. È un prodotto ottimo, ottimo. Io lo consiglio a tutte quelle ragazze che magari avevano la ricostruzione, hanno tolto la ricostruzione, di utilizzare quel prodotto perché è ottimo, ma anche per chi non usa fare ricostruzione o semipermanente, e che comunque ha delle unghie un po' più fragili, o vuole mantenere delle buone unghie di utilizzare quel prodotto perché è fantastico. Allora, come ultima cosa vi faccio vedere questo set di anelli che era stato ordinato nella scorsa campagna, ma che non mi avevano mandato, e che mi hanno mandato finalmente questa volta. Allora, vi faccio vedere. Ah no, è un anello soltanto. Bellissimo. Che è questo qui, praticamente, questo anello con l'ancora. Solo che io non ricordavo, io pensavo fosse un set di anelli, non so perché ho questo dubbio. Comunque, devo andare a verificare bene il fatto delle anelli. Ok. Ok. Allora, ragazze, sono andata velocissima, ho saltato tanti prodotti, però diciamo che erano tutti prodotti dupe, doppioni, e quindi niente, diciamo che il make-up è quello che va per la maggiore, oltre ai prodotti appunto come bagnoschiuma e profumi vari. Vi saluto, seguite tutti i video, mi raccomando ragazzi aiutatemi a far crescere il canale, quindi se avete qualche amica che sapete che segue YouTube, consigliatevi appunto di iscriversi al mio canale, spolliciate, mettete like, perché in questo, soltanto in questo modo il canale può crescere, perché YouTube, come ben sapete, in quest'ultimo periodo dà visibilità ai canali che realizzano più video durante la settimana. Infatti io è un periodo che sto cercando di realizzare almeno due video a settimana, giusto per avere visibilità e per far crescere il canale. Ho detto canale tante volte, niente, comunque vi salutiamo, io e Marika vi salutiamo, la mia assistente l'ho fatta spompare, vi do un mega bacio, al prossimo video, ciao!